Oggi è una giornata importante, un'occasione per diffondere un messaggio relativo alla cultura della parità, diffonderlo nell'aula, quindi ai consiglieri regionali, ma ai cittadini, alle famiglie, a tutti coloro che hanno anche modo di ascoltarci da casa. È stata anche un'occasione per ribadire l'intervento, l'impegno di Regione Lombardia che ha messo a disposizione per l'ultimo anno ben 16 milioni e mezzo, 16 milioni e mezzo per tutta la rete antiviolenza territoriale presente in Lombardia e anche per rimarcare alcuni degli interventi più importanti, tra questi l'autonomia abitativa che l'abbiamo avviata in questa legislatura, anche l'autonomia lavorativa, quindi in ambito economico per dare da un lato la casa e dare anche il lavoro e dare la possibilità a queste donne vittime di violenza di riappropriarsi della loro vita e quindi poter vedere, come dire, una luce in fondo al tunnel. Quindi sono tanti gli interventi e non mancano ovviamente le risorse che abbiamo messo in campo sul tema della prevenzione, quindi risorse che mettiamo a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale per finanziare alcuni progetti dove sono gli stessi giovani attori, sono direttamente loro a realizzare questi progetti, anche all'interno delle Università Lombarde. Abbiamo finanziato per il quarto anno ben nove progetti innovativi, quindi fondamentale prevenzione, quindi instaurare e poter trasmettere questa cultura della parità di genere, questa cultura del rispetto nei giovani, ma anche migliorare la presa in carico delle donne vittime di violenza e accompagnarle verso la fuoriuscita. È importante fare squadra e poter coinvolgere soggetti che possono darci una mano per diffondere questo importante messaggio della cultura della parità. Abbiamo avuto una testimonial di eccezione che si è messa a disposizione a titolo gratuito di Regione Lombardia, ma soprattutto della società, per diffondere questo messaggio. Matilde Gioli è la nostra testimonial, che ringrazio sentitamente per la sua grande professionalità, per la sua sensibilità e da domani partirà questa campagna social, soprattutto per andare a intercettare i più giovani e trasmettere questo messaggio della cultura di parità.